Carlo III è il re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri quattordici reami del Commonwealth. Figlio maggiore della regina Elisabetta II e del marito Filippo di Edimburgo, appartiene al casato Windsor, che ha mantenuto tale denominazione per decreto reale anche dopo il matrimonio della madre. Ma prima di rientrare a Londra, però, re Carlo III e la regina Camilla si sono fermati a Balmoral, Scozia. Si tratta del primo viaggio scozzese dopo la diagnosi del cancro, annunciata lo scorso mese di febbraio. E pensare che proprio per le cure, infatti, il re ha deciso di ritirarsi dai doveri pubblici, continuando a visionare la red box che contiene i documenti amministrativi del regno. Non sono invece mancati gli incontri settimanali, con il primo ministro. Una scelta ben precisa che di certo non è passata inosservata. I progetti del monarca re Carlo III è determinato e vuol porta avanti i progetti, che hanno a che fare con l'ambiente. Il sovrano ha intenzione di creare una fattoria solare nella tenuta di Sandringham, nel Norfolk. Ma di cosa si tratta? Ci sono in ballo 2000 pannelli solari, su un terreno di 20.000 acri, che il monarca vorrebbe installare sui paddock dei cavalli. Si tratta di un progetto a zero impatto ambientale, cavallo di battaglia del monarca fin da quando era giovane. Grazie. 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 Grazie.